buongiorno a tutti è iniziata la giornata li vediamo tutti stanchi stiamo tutti aspettando la ceci noi oggi andremo al castello di meggi ma prendiamoci un attimo per conoscere i nostri compagni bomba rabba dice qualcosa sono quello che ravanna sempre dentro lo zaino in ogni video di ted in effetti sì purtroppo è inquietante la cosa buongiorno di nuovo siamo in treno diretti ai meggi ci vorrà un'ora e mezza da kyoto perché non abbiamo voluto prendere lo shinkansen che non ci avevamo i soldi non volevamo siamo ricchi ma non così tanto beh potevamo prenderlo eh dai sì ma l'avrebbe voluto prendere perché i piedi è una rottura un po di ballo sì ma adesso ci sediamo ragazzi adesso ci sediamo mario doveva incontrare il suo amico fotografo la stazione di kobe ha visto che l'orario era le 9 di mattina e 51 è sceso alla stazione di kobe shinomiya che è quella dove ci sono anche di shinkansen e non è sceso ancora subito dopo a 4 minuti di distanza dove era proprio kobe quindi voglio vedere adesso come fanno a trovare il loro amico sarà un bel cazzo di problemi per loro esatto uno scorso della baia tra kobe e akashi ecco l'akashi kai kyo bridge il ponte accampata unica più lungo del mondo eccoci siamo arrivati ai meggi questa è la stazione i bastardi giappi per il caldo ci fanno il bagno anche loro col cazzo che sono abituati siamo rimasti solo noi quattro perché come vi dicevo gli altri tre sono andati a cercare un fotografo russo ma intanto ecco il castello di meggi ci hanno appena intervistato dei bambini che devono conoscere l'inglese vedete i regalini che ci hanno fatto le loro maestre ci hanno gentilmente chiesto di subire questa intervista l'abbiamo fatto stefano si è rifiutato io non mi hanno cercato quindi mi sono messo a fare qualche foto vediamo tre baldi ex giovani ormai che si stanno facendo una serie di foto al castello di meggi restaurato dall'anno scorso ci stiamo avvicinando al castello di meggi la nostra rincorsa al castello di meggi si sta restando lungo la fila siamo appena entrati dentro il castello di meggi dopo 40 minuti di fila vi ho appena fatto vedere una panoramica di quello che si vede dal castello e questo invece è il plastico di tutta l'area di meggi nel massimo splendore questa che vedete è tutta la struttura in legno che sorregge il castello di meggi ecco siamo finalmente arrivati in cima nel punto più alto c'è un tempietto scintorista è stata una fatica immane e questa qui è la vista che ci ripaga di più o meno 40 minuti di fila per salire però è bello se fosse una giornata limpida sarebbe ancora meglio cosa ne pensate? bello alto bello dopo la fatica di salire sul castello bisogna dire che è veramente bello e merita di essere visto quindi ci dovete passare con tutta la gente che lo sta vedendo è una fatica immane senza però veramente però lo spettacolo è di tutto il rispetto sorpresona sorpresona abbiamo trovato gli altri che adesso dovranno andare a vedere il castello mentre noi andiamo a vedere il coco n e poi andiamo di nuovo a chioto salutateli siamo dentro al giardino coco n vicino ai meggi guardate un po la vista e la classicità del giardino giapponese spero che possiate notare la dimensione di queste carpe all'interno di questo bellissimo giardino metodi di cultura nel giappone mi raccomando giardino da vedere soli 40 yen in più del biglietto del castello di i meggi c'è daniele che sta cercando di comunicare con un anziano giapponese è bellissima la scena ben ritrovati ho lasciato gli altri andare al fushiminari intanto io sono venuto in un tempio che col bakasana avevo già visto nel 2009 si tratta del koshoji temple quanto pare sembra già chiuso quindi farò giusto una rapida visita per poi andare a quello lì di fianco ecco mi è arrivato al nishi o angji la casa del buddha dharma a quanto pare dicono i cartelli questo è un alberone gigantesco sinceramente non so di che tipo ma è bellissimo come potete vedere parte è in restauro quindi non ci si può accedere però io farò un giro in quello che è visitabile non ci si può accedere non ci si può accedere non ci si può accedere noi stiamo per entrare a mangiare okonomiyaki qui a Ghion guardate che localino eccoci qua dall'okonomiyakaro guardate il maiale che soffrigge mentre noi ansimanti aspettiamo il cibo molto ansimanti ecco che è arrivato l'okonomiyaki tanta roba come dice Ivan incredibile facciamo un cuore incredibile mamma mia devo ammettere che non l'ho mai visto così pieno questo locale e mentre noi siamo qui a disquisire del più del meno ascoltando della musica suonata dal vivo ci godiamo un po' di arieta fresca e poi andiamo a letto a dormire visto che domani è l'ultimo giorno a Kyoto e comprate il cd di quello la perché è bravissimo grazie grazie